Solo uniti si può difendere l'autonomia difficilmente conquistata e che forse non si è riusciti a mantenere questo l'appello condiviso lanciato da istituzioni, politici e associazioni. Si apre il nuovo corso della Fondazione Molise Cultura, dopo la fusione con la Fondazione Provinciale che ha permesso di salvare il Teatro Savoia, si punta ora a rendere la città un polo culturalmente attrattivo. Sempre più in rosso il bilancio del COSIB mentre gli amministratori del Consorzio continuano a godere di cospicui stipendi, conti in regola invece per il presidente del COSIB. Dopo il pareggio interno con la Miternina, il Campobasso resta fiducioso per il proseguo del campionato, Agnone e Termoli si preparano per il riscatto. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Come avete sentito dai titoli contro la paventata cancellazione del Molise che rischia di perdere non solo la propria autonomia ma anche corte d'appello e tribunali. Sono scesi in campo istituzioni, forze politiche e associazioni difendere con forza ciò che si è conquistato e che forse non si è saputo mantenere l'appello da tutti condiviso. Sentiamo. Festeggiati 50 anni dalla nascita alle soglie del suo 51esimo compleanno, la regione Molise teme per la sua autonomia visto il paventato accorpamento con altre regioni. Proprio in difesa dell'autonomia regionale sono scesi in campo rappresentanti istituzionali e alcuni studiosi nel convegno organizzato dal Movimento del Guerriero Sannita in collaborazione con la provincia di Campobasso. Abbiamo lottato tanti anni per avere questa autonomia amministrativa e regionale e dobbiamo conservarla. Su questo tema così delicato che riguarda l'esistenza amministrativa e territoriale del nostro popolo credo che tutte le forze politiche, imprenditoriali e sociali devono essere unite perché il Molise come dico sempre ha le capacità di andare avanti perché l'eventuale chiusura non fa altro che danneggiare sempre il popolino perché in queste situazioni chi ci rimette è sempre il popolino. Tutti concordi nel difendere con forza ciò che si è conquistato e che forse non si è riusciti a mantenere. Il problema è che non si può superare un'identità regionale se esiste e la nostra esiste. Del resto i nostri padri costituenti l'avevano scritto nella Costituzione e non si rincorre solo un riordino per fare economia. Il problema è mantenerla l'autonomia regionale. Noi non ce lo siamo meritati in questi anni. Dobbiamo dire, mi ci voglio mettere anch'io, che ho gestito questa regione per ciò che concedono le mie colpe. Noi potevamo fare di questa regione un giardino d'Italia, potevamo fare di questa regione una risorsa. La sanità è un esempio. Potevamo far sì che questa regione attirasse persone dalle altre parti sia per ciò che riguarda il turismo ed altri. Invece l'abbiamo trasformato in una regione che perde abitanti più delle altre, che ha gli indici economici peggiori delle altre. La regione molise che ha perso già tanti servizi, oggi si parla anche della soppressione della Corte d'Appello. Se vogliono eliminare la regione che ce lo dicono chiaramente. Oltre alla Corte d'Appello a rischio anche i tribunali di Sernia e Larino, soppressioni che avrebbero ripercussioni sui cittadini che si troverebbero alle prese con disagi e a sostenere costi più elevati per poter accedere alla giustizia. È stato dimostrato quali risparmi si potrebbero conseguire. Un dato è certo che questo territorio che ha già tante, come dire, ferite, si troverebbe ad affrontare dei costi per l'accesso alla giustizia ancora maggiori. Paradossalmente in un momento in cui il Molise è la regione che paga di più a livello di addizionali regionali per un parametro, quello del disavanzo sanitario, che non ha alcuna legittimazione costituzionale, perché non c'è nessun nesso causale tra la capacità contributiva di ogni cittadino molisano e il deficit sanitario. Quindi questa è una ferita costituzionale che ad esempio stiamo subendo. Sul piede di guerra gli operatori della formazione professionale che con un comunicato stampo hanno fatto sapere di aver inutimente atteso questi mesi per vedere risolti i propri problemi occupazionali. Lo stesso personale, deluso e amareggiato, continua la nota, dalle ore 11.30 di domani, mercoledì 17 settembre, protesterà davanti la sede del Consiglio regionale in via 4 novembre a Campobasso. Anche il presidente della provincia Pentra, Luigi Mazzuto, si è espresso sulla messa in discussione dell'autonomia regionale. Una linea di abbandono specificato Mazzuto che lo ha portato a seguire il percorso di Salvini. Sulle elezioni che porteranno alla scelta del suo successore alla guida dell'ente di Via Berta dice, non parteggio per nessuno, le sfide non mi appassionano. Sentiamo. L'esperienza dell'eliminazione delle province ha già dimostrato come in realtà i centri di costo non vengano eliminati ma solo trasferiti, con il conseguente risultato di avere solo una confusione di ruoli e competenze trovandosi nell'impossibilità di garantire i servizi al cittadino. Così l'attuale presidente della provincia di Sernia, Luigi Mazzuto. Uno scenario disastroso domani perché l'elezione è un ente di secondo livello che assomiglia o che in toto sostituisce quelle che erano le vecchie comunità montane, di fatto di questo stiamo parlando oggi ma sappiamo anche che le comunità montane hanno fallito. Ma non è questo, il problema del secondo livello potrebbe anche giustificarsi quantunque venga accompagnato a quelle che sono le rimesse dello Stato per gestire i servizi. Il fatto è che a questa azione non si accompagna quindi le rimesse finanziarie per cui i servizi vengono meno. Oggi entro il 12 settembre stiamo aspettando i decreti attuativi per capire anche le funzioni che dovevano avere i nuovi enti domani così organizzati, ancora non siamo in presenza di nulla, per cui come finirà? Non lo so come finirà, di fondi non ce ne sono, non ce ne saranno rimesse e quindi mi auguro che le scuole potranno continuare ad essere aperte, mi auguro che le strade continueranno ad essere percorribili, mi auguro che il sociale potrà comunque cominciare a dare delle risposte alle famiglie che soprattutto sono toccate da disgrazie e che oggi si vedono chiusa, quindi ogni possibilità, ogni via di fuga dall'ente pubblico che poteva essere la provincia che per un certo periodo, anche durante il mio mandato, ha assicurato questi servizi. Oggi non lo può fare più. Il presidente uscente, che ha fatto molto discutere negli ultimi tempi con la sua adesione alla Lega Nord, si è soffermato anche sul rischio della perdita dell'autonomia regionale, un processo da lui definito ormai pressoché irreversibile. Un nuovo scenario che porta il presidente Mazzuto a seguire con distacco le elezioni che porteranno alla scelta del suo successore alla guida della provincia Pentra. Le sfide non mi appassionano perché io ho preso le distanze, perché da quattro anni vado denunciando questo stato di cose per gli enti locali che sarebbero stati svuotati e oggi per quello che mi riguarda do ancora sequenza a questa mia azione dicendo che io non legittimo, io come persona innanzitutto, come presidente uscente ma anche come responsabile della Lega di questa regione non legittimo questa azione politica e quindi anche questa elezione perché ci ha svuotato. Una sfida, quella tra il vice sindaco Ricci e il sindaco Brasiello che sembrerebbe non appassionare. Sarebbe stato meglio una sfida con nomi diversi il commento dell'ex senatore Alfredo D'Ambrosio. Avrei preferito trovare una persona al di fuori praticamente, sia dello schermano di centro-sinistra che di centro-sinistra, perché i nomi che si fanno con tutto il rispetto per le persone, perché io parlo dal punto di vista politico, non è che abbiano praticamente una conoscenza tale, una storia politica e ne hanno dimostrato di avere capacità spiccate dal punto di vista amministrativa per poter affrontare i problemi di questa natura. Per cui dico X. La parola passa ora ai due contendenti che il prossimo 12 ottobre si sfideranno per la presidenza della provincia. Pubblicato il bando per gli aiuti ai commercianti al minuto di prodotti ittici, a renderlo noto l'assessore all'attività produttiva Massimiliano Scarabeo. Essere un'impresa con sede legale e operativa nella nostra regione che svolge attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici freschi provenienti dal mare Adriatico è il requisito minimo a specificato Scarabeo per poter accedere al bando, che diventa così esecutivo e consente di ottenere un aiuto in conto capitale pari a 3.000 euro. La modulistica può essere ritirata nella sede dell'assessorato regionale alle attività produttive o scaricata direttamente dal sito internet della regione Molise. Cambiamo argomento, riparte il nuovo corso della Fondazione Molise Cultura. Tanti nomi di spicco e le novità come la nascita di un centro di produzione teatrale regionale, il festival della poesia e la rassegna cinematografica, c'era una volta l'Odeon, ma anche arte con le esposizioni dedicate a De Chirico e Trivisonno. Più di 200 gli eventi in programma, i dettagli nel servizio. Arte, musica, poesia, libri e spettacoli teatrali sono più di 200 gli eventi del cartellone della Fondazione Molise Cultura. Un programma ricco e variegato, quello della nuova stagione in cui spiccano i nomi di Albertazzi, Arena, Dandini e Travaglio. Molto attese anche le mostre di De Chirico e Trivisonno. La mostra dedicata all'artista De Chirico sarà allestita dal 15 novembre all'8 marzo, mentre l'esposizione omaggio al molisano Trivisonno è in programma ad aprile. Noi presenteremo lunedì prossimo tutto il cartellone del Teatro Savoia, che è un cartellone molto interessante ed estremamente variegato, come è giusto che sia un'offerta che si rivolge ad un pubblico vasto, competente, ma anche variegato. E quindi lunedì naturalmente presenteremo tutti quanti i nomi. C'è la qualità ormai riconosciuta dei 45 anni dell'Associazione Amici della Musica, quindi un cartellone importante. C'è il cartellone dei concerti d'autunno, lei lo ha detto, c'è De Chirico. Presenteremo anche all'interno di un progetto molto interessante, Trivisonno, i grandi catoni di Trivisonno che metteremo in esposizione. E tenderemo ad alternare delle grandi professionalità, dei grandi artisti del territorio con figure riconoscibili naturalmente su un piano nazionale. Tra le novità da segnalare il progetto c'era una volta l'Odeon, che vedrà l'auditorium trasformarsi per tre giorni a settimana in un cinema. Si apre dunque il nuovo corso della Fondazione Molise Cultura. Dopo la fusione con la Fondazione Provinciale, che ha permesso di salvare lo storico teatro di Piazza Prefettura, si punta ora a rendere la città un polo culturalmente attrattivo. Questo era l'Odeon, dove molti di noi, anche io bambina, ha visto film per bambini, ebbene ritorna con delle rassegne cinematografiche di qualità nel centro della città. E' stata inaugurata nella Galleria Civica di Termoli la quarta edizione della mostra Nulla Re organizzata dall'Università delle Tre Età, un'esposizione collettiva che nasce dal desiderio di raccontare delle emozioni attraverso la quotidianità del vivere. Sono quattro anni che realizziamo questa mostra, che ormai una tradizione con Nulla Re abbiamo voluto lasciare al visitatore la possibilità di emozionarsi, hanno commentato gli organizzatori, che poi hanno aggiunto la scelta di ogni immagine osservabile dettata dall'impegno di ogni allievo e dello stesso maestro Antonio Di Gregorio, che hanno voluto così omaggiare l'arte. La mostra d'ingresso gratuito sarà visitabile fino al 30 settembre, dalle ore 18 alle ore 20. Restiamo a Termoli, il Comune ha deciso di fare ricorso al TAR per la questione GTM Trasporto Pubblico Locale. L'ente termolese infatti non condivide la deribera regionale che prevede il taglio del 45% dei contributi erogati dalla Regione alla GTM. Sentiamo. A Termoli continua a tenere banco la questione Trasporto Pubblico, infatti l'ente locale basso molisano sta analizzando minuziosamente la questione che riguarda l'attuale condizione in cui verte la GTM, azienda che si occupa del trasporto locale e che si è vista costretta ad avviare la procedura di mobilità per i propri 45 dipendenti, a causa della riduzione del contributo del 45% erogato all'ente di via sanitica dalla Regione Molise. Stiamo studiando adesso in questo momento le carte perché c'è stata una delibera della Giunta che ha abbassato il prezzo da corrispondere alla concessionaria GTM e ovviamente questo comporta o comporterebbe una riduzione del servizio. Quindi noi stiamo valutando cosa fare per far sì che il servizio resti così come è e quindi anche la forza lavoro della GTM resti in tonza. Si parla di un ricorso alla TAR da parte del Comune, vero? Abbiamo già dato incarico ad un legale per la valutazione di un ricorso contro questa delibera perché ovviamente non la possiamo condividere perché ridurrebbe il servizio nella nostra città. Dunque lo stesso sbrocca conferma senza ombra di dubbio le voci giunte nei giorni scorsi, ovvero che i vertici dell'ente locale basso molisano hanno intenzione di impugnare al TAR Molise il provvedimento con cui la Giunta Frattura ha quasi dimezzato il finanziamento per il trasporto pubblico della cittadina adriatica. Una scelta questa volta a garantire il miglior servizio possibile agli abitanti di Termoli. Il gruppo consigliare dell'Italia dei Valori ha presentato al presidente del Consiglio regionale Niro una mozione intesa a impegnare la Giunta alla sensibilizzazione del Governo e del Ministero dell'Interno rispetto alla carenza di personale e risorse della Polizia di Stato in Molise. I due consiglieri firmatari Cristiano Di Pietro e Carmelo Parpiglia hanno poi evidenziato l'inadeguatezza del presidio di polizia all'ospedale Cardarelli di Campobasso che è spesso chiusa a causa della mancata assegnazione di personale e le oggettive difficoltà in cui versa l'ufficio immigrazione che deve far fronte alla presenza di un crescente numero di stranieri. Il bilancio del COSIB è sempre più in rosso mentre gli amministratori del Consorzio continuano a godere di lauti stipendi questo è quanto emerso dall'ultimo esercizio di bilancio ma per il presidente Mascio i conti sono in regola intanto a breve saranno assunti 100 dipendenti dopo l'accordo firmato con la ITT. Sentiamo. Che il COSIB navigasse in cattive acque questo lo si sapeva e di fatti non è certo una novità e che il suo bilancio fosse ancora in negativo per due anni di seguito era d'altronde logico aspettarselo anche se a detta della presidente i conti ad oggi sono tutti in regola. Del resto è dal 2008 che le cose del COSIB non vanno per il verso giusto nonostante visionano ancora circa 81 aziende a farvi parte. Infatti anche per quest'anno il bilancio del Consorzio Basso Molisano è stato approvato con una perdita pari a 104.380 euro. Una situazione dunque questa che non stupisce ma quello che emerge è come sia possibile che gli attuali amministratori continuino a percepire dei sostanziosi stipendi nonostante la situazione del Consorzio sia di profondo rosso. Precisamente gli amministratori del Consorzio costano alla collettività circa 300.000 euro annui una spesa non da poco visto la crisi lavorativa generalizzata che vede sempre più aziende chiudere. Questo è quello che si evince dal bilancio 2013 che dimostra come il Consorzio non sia più in grado di gestire le richieste delle aziende operanti sul territorio. Il monito del Consiglio dei Revisori è quello di invertire la rotta ovvero di contenere i costi, di ridurre le incidenze sui costi strutturali e della gestione corrente della cassa e di incrementare il tasso di produttività delle risorse umane. Insomma in poche parole è quello di diminuire le spese e aumentare i ricavi. Proprio per cercare di far questo è stato siglato un accordo con la ITT azienda del settore automotive che dopo un periodo di crisi apparente sfociata anche in cassa integrazione ora è pronta a ripartire di slancio e amplierà il proprio stabilimento infatti da qui alla 2016 un centinaio saranno gli addetti che verranno assunti. Questo però non basta, quello che occorre su tutto ora è una riforma dei consorsi regionali attraverso una legge che riunisca i tre consorsi presenti in regioni e attui un piano concreto di rilancio. Al momento la legge è stata approvata dall'Aggiunta regionale lo scorso novembre ma non è ancora approdata in Consiglio regionale. Dunque la palla ora è in mano alla maggioranza regionale che dovrà studiare come rilanciare l'economia industriale di questa regione. Attivo dal prossimo lunedì 22 settembre il servizio di mensa scolastica in tutti gli istituti di termo. I pasti costeranno 3 euro per il primo figlio di ogni famiglia, 2,50 euro per il secondo e 2 euro per il terzo figlio. Per i nuovi utenti occorre ritirare il codice all'ufficio istruzione del comune di Termoli. Aperte invece le iscrizioni per usufruire del servizio mensa al comune di Campobasso. Tutta la modulistica necessaria è disponibile. Sul sito del comune il servizio sarà attivo a decorrere dal prossimo 6 ottobre. Si chiama Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare ed è uno strumento di supporto alle imprese del territorio molisano in materia di vendita ed esportazione dei prodotti alimentari non solo in Italia ma anche sui mercati europei. A presentare il nuovo servizio il presidente Pasqualino Piersimoni. Sentiamo. Presidente Piersimoni, oggi parliamo di un nuovo servizio per le piccole e medie imprese, lo sportello etichettatura e sicurezza alimentare. Sì, in effetti questo è un servizio, un supporto che noi già diamo alle imprese però in questo caso abbiamo voluto creare proprio un sito e soprattutto una collaborazione con il laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino che è un'eccellenza in questo settore per far sì che le imprese possano avere risposte in tempo giusto, veloce e soprattutto avere risposte di alta professionalità per far sì che le esportazioni dei loro prodotti possano essere poi e non avere problemi poi a valle. Quindi nel concreto che tipo di supporto c'è per le imprese? Allora, il problema dell'etichetta per quanto riguarda i prodotti agroalimentari in particolare è un problema, diciamo, è una cosa molto importante anche perché oltre la normativa nazionale che va rispettata nel momento in cui bisogna esportare in paesi europei oppure extraeuropei c'è bisogno di rispettare anche la normativa di quel paese quindi prodotto per prodotto ha bisogno di avere un'etichetta fatta in un certo modo e in più c'è tutto il problema della sicurezza alimentare che va rispettata quindi questo è tutto nell'ottica di dare il supporto alle imprese che esportano in particolare i prodotti per far sì che possano accedere a questa piattaforma che noi abbiamo creato e quindi porci dei quesiti che noi in tempo reale daremo la risposta che devono avere. Ha destato orrore e indignazione la notizia della volpe barbaramente uccisa in provincia di Isernia l'animale è stato trovato legato a una sbarra e con un petardo in bocca dai volontari dell'OIPA in località la solfatara tra Rocca Ravindola e Pozzilli la forestale ha disposto l'esame autottico naturalmente provvederemo a denunciare il fatto le autorità competenti hanno sottolineato i volontari che hanno diffuso anche una foto dell'animale e lanciato un appello a chiunque sia in grado di fornire informazioni utili anche in forma anonima rinvenuta ieri invece sulla tangenziale Ovest di Campobasso incontra da macchie una carcassa di una femmina di lupo appenninico investita da un'auto apriamo ora la pagina sportiva secondo pari consecutivo del Campobasso che nonostante in dieci uomini ci ha provato fino alla fine per ottenere i tre punti Farina crede in questo gruppo e sicuramente i risultati arriveranno ascoltiamo proprio il tecnico Rosso-Blu abbiamo fatto il nostro solito primo tempo abbiamo messo un po' di tempo per entrare in partita però guardate io ho visto un secondo tema una squadra che voleva la vittoria a tutti i costi dieci contro undici abbiamo avuto cinque occasioni clamorose perché le due di Vitelli quella di Miani in altre due situazioni con due cross di Todino le abbiamo messi in grossa difficoltà io dico primo tempo abbiamo giocato Maluccio nel secondo tempo io ho visto una squadra che voleva la vittoria a tutti i costi dieci contro undici è riuscita a mettergli avversari loro perdevano tempo quindi penso che il gioco ci sia se diciamo che il primo tempo non c'è stato il gioco dovete dire nel secondo tempo c'è stato il gioco c'è stata una grossa reazione nel secondo tempo pronti via dopo tre minuti già avevamo avuto due occasioni da gol a sinistra da Contodino secondo me noi veniamo fuori nel secondo tempo perché come ho detto più volte abbiamo dei limiti soprattutto a livello fisico che abbiamo una squadra molto strutturata e quindi nel secondo tempo gli altri calano e noi veniamo fuori perché abbiamo fatto un buon lavoro di forza e resistenza Soddisfatto a fine gara per il punto conquistato a Campobasso il tecnico dell'Amiternina Angelone ascoltiamo l'intervista in quanto a qualità di gioco e situazioni pericolose in realtà forse al primo tempo meritavamo anche i vantaggi poi al secondo tempo dopo l'espulsione paradossalmente la squadra si è un po' sciolta la mia forse quando bisognava assumersi responsabilità di fare la partita la abbiamo un po' peccato però sono soddisfatto poi nel complesso dei 90 minuti è un punto per noi importantissimo per l'ottica salvezza non sono mancati poi da parte del tecnico dell'Amiternina elogi alla formazione Campobassana mi ha impressionato perché poi davanti sono fortissimi anche fisicamente è una battaglia a centrocampo sanno giocare al calcio dietro i due centrali sono esperti quindi è una squadra fortissima secondo me e adesso che troverà i ritmi giusti io le vedo proprio nella prima fascia per la vittoria del campionato avvio proibitivo per il Venafro che al Delprete ha incontrato una delle migliori formazioni del torneo il Riccia infatti parte con i favori di pronostico per la vittoria finale a fine gara il trainer del Venafro Jimmy Capitanio è soddisfatto per aver contrastato gli avversari con una squadra imbottita di giovani sentiamo faccio per tutto complimenti a questi ragazzi abbiamo utilizzato almeno 4,97 contro una squadra ostica ben messa in campo poi con un attacco veramente forte perché conosciamo Delzinga Ruminotti Vinci Guerra non è che li devo descrivere io ha detto lei già all'inizio che il primo tempo è stato tutto il nostro credo che sia sul piano del gioco dell'occasione da gol e della voglia di fare la partita ho visto un bel Venafro un bel possesso palla siamo arrivati in borta a diverse conclusioni il portiere loro ha fatto due o tre interventi importanti poi diciamo che il secondo tempo ha bevuto un calo un po' fisico il Riccia ci ha creduto un po' di più poi con l'inserimento di Delzingaro diciamo sulla destra ci ha dato dei grossi problemi gli ultimi 20 minuti e credo che la partita l'hanno vinta proprio là perché alla fine noi siamo proprio abbiamo preso il godo per il gol abbiamo pure reagito perché abbiamo avuto pure due o tre palle e golo nonostante siamo stati stanchi e tutti con Patriciello due colpi di testa a fil di palo due belle parate del portiere e Nazione bellissima di fascia sulla fascia che l'ha messa in mezzo e porta vuota non siamo riusciti a concludere poi abbiamo subito il secondo gol in contropiede e la partita insomma è chiusa abbiamo due o tre elementi purtroppo che hanno fatto pochi allenamenti con noi tipo De Simone di Principe e magari questo nell'assetto della gara a lungo andare l'abbiamo pagato però niente sono contento perché no per il risultato però una squadraggione ha fatto un buon calcio ci manca qualche elemento proprio esperto che in queste situazioni ci fanno fare la differenza con questo è tutto grazie per averci seguito vi lascio ora alle previsioni del tempo arrivederci il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso previsioni del tempo per mercoledì 17 settembre giornata all'insegna della variabilità a causa di correnti umide occidentali temperature per lo più stazionarie venti deboli settentrionali basso adriatico poco mosso vediamo nel dettaglio le temperature Campobasso minima 15 massima 22 gradi Isernia minima 13 massima 24 gradi Termoli minima 18 massima 24 gradi il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso di Campobasso